E qui c'è la scena della Camera dei Segreti, la serra. Ciao. Ciao. Grazie di essere qui. Qui, 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 qui. Come oggi. Qui, 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 qui. Qui, 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 qui. Qui, 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 qui. Eccoci alla prima, prima, prima pagina. Qui c'è il castello di Hogwarts. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Eccolo anche da così. E oltre a queste immagini ci sono anche dei particolari che andremo a vedere. Ad esempio, guardate che bello il campo in mezzo. Se si vede, ok? Si vede. E qui abbiamo il primo pop-up un pochino piccolo. Ed è Silente con la sua Fenice nel suo studio. Che bello, non avete idea della soddisfazione di aprirlo? E qui ci sono spiegate le case di Hogwarts, quindi che gli studenti del primo anno sono assegnati in una delle quattro case al panchetto di inizio. Nella cerimonia di inizio di Hogwarts, che è condotta, che è guidata dalla McGrannit. E si vede appunto nel primo film. Le case sono Corvo Nero, Tosso Rosso, Fondoro e Serpe Verde. Che sono stati i cui nomi derivano dai quattro fondatori della scuola. L'altro pop-up è questo. Mamma mia che bello. E si vede, si può tirare Ermione. A destra invece c'è un pop-up che dice i tre eroi in Harry Potter e la Pieta Filosofare. Harry capisce e impara che è un mago, scopre che è un mago, quando riceve la sua lettera di accettazione a Hogwarts. Durante dei flashback scopriamo che Harry, quando era un bambino, è stato capace di... è sopravvissuto al... Adavata Kedavra. E questo incantesimo mortale, appunto, lanciato dall'Hoodward, che gli ha lasciato appunto al cicatrice forma di... è... Fetta. E questi sono i tre protagonisti. Quindi abbiamo Ermione, che si può... si può tirare giù. Guardiamo. Che bello. Poi abbiamo Harry sulla sua scopa magica. Salimus 2000. E poi abbiamo Ron sul cavallo. E questo è preso punto dalla scena d'azione del primo film. Sul cavallo degli scacchi. Che bello. Amo. Qui. Giriamo pagina. in questa pagina abbiamo Hogwarts visto penso sia il cortiletto non so se si vede qui il cortile la serra ve lo giro, ve lo faccio vedere a 360 gradi qui c'è l'ingresso qui non so se vedete c'è qualcuno penso sia ah questa è la torre di astronomia infatti c'è Piton con Silente ok e siamo tornati a destra a sinistra dell'immagine c'è questo in Harry Potter la camera dei segreti la scuola è minacciata da un basilisco mortale 50 anni prima Harry iniziasse la scuola e Hogwarts il giovane Voldemort che è nato sotto il nome di Tom Riddle ha scoperto la camera dei segreti e ha rilasciato il basilisco liberato il basilisco nel secondo anno di Harry il basilisco viene liberato ancora e qui c'è la scena della camera dei segreti con il liare di Tom Riddle ma se è bello e invece sotto questa è la stanza delle necessità sotto vedete la stanza delle necessità e può essere trovata solo da chi ne ha bisogno e qui c'è appunto la stanza delle necessità questo non capisco sia semplicemente così sì, sì questo è molto semplice semplicemente si apre no non capisco se ci sia qualcosa sotto c'è qualcosa sotto non capisco come si fa ah ok e qui c'è Drago invece quindi se l'apriamo così c'è Neville e se l'apriamo così c'è Drago spero riusciate a vedere andiamo invece a sinistra e qui semplicemente ci sono descrizioni delle classi di Hogwarts a sinistra ci sono le classi di Hogwarts infatti qui c'è scritto Hogwarts Classes ma dopo ve lo leggo nei particolari andiamo avanti guardate che meraviglia questa pagina sul Quidditch la mia è stupendo e qui si tira e Sirius da cane diventa cioè la cane diventa uomo invece qui invece qui abbiamo la coppa dopo ve la faccio vedere meglio quindi la prima prova con il Drago con il Drago e i quattro partecipanti alla Coppa Tremachi vediamo se riesco ad aprirvi tutto così ecco qua così è completo spero si veda tutto il campo di Quidditch forse è la mia pagina preferita la trovo super bella e anche più facile da apprezzare in 3D gli altri disegni sono molto grandi infatti penso che la terrò così cioè quando la vedrò forse la terrò sul campo da Quidditch adesso del campo da Quidditch c'è la spiegazione del Quidditch quindi del Quidditch quindi lo sport più popolare della più famosa anche della squadra di magia è appunto il Quidditch in realtà del mondo della magia è il Quidditch che si svolge in aria sette giocatori di ogni di ogni squadra volano solo i loro scopi volanti e fanno punto lanciando una palla in una palla facendo centro in uno dei tre cerchi e qui vediamo i protagonisti del torneo tre maghi con il famoso drago qui si apre e si vede l'uovo e qui si apre e si la coppa tre maghi quindi guardate che meraviglia vi faccio vedere tutto coppa tre maghi abbiamo i quattro protagonisti l'uovo e la coppa a sinistra invece abbiamo R che cerca di scappare dai dissennatori e abbiamo l'ordine della Fenice con Sirius che passa da umano da nemagos penso che ogni pagina sia riferita a un libro questo ad esempio abbiamo il quarto libro Harry Potter e aiuto e il calice di fuoco ok cambiamo pagina no comunque ho detto una cavolata qui abbiamo invece Hawksmeade non lo so mai pronunciare bene perdonatemi quindi Calquittich a Hawksmeade d'inverno e qui abbiamo la mappa del mandrino ripetiamo l'operazione qui abbiamo la casa stregata vediamo abbiamo vari negoziati qui di te qui cosa c'è questo è di Sartoria che bello quanti particolari spero riusciate a vederli ad esempio questi particolari e questa non è in casino però è la stamberga strellante adoro questo suono vi faccio vedere bene la mappa del mandrino qui c'è Harry Potter e qui è Peter Minus in questo appunto si apre da tutti i tuoi lati e in un ricompaiono bellissima bellissima veramente andiamo avanti passiamo da Hawksmeade alla foresta proibita eccoci qua alla foresta proibita con i ragni con lupo intrasformato in lupo mannaro ve la giro un pochino qui cosa abbiamo oddio com'è che si chiama si chiama Colaccino mi ricordo il fratello di Hagrid il gigante bellissimo poi faccio il close up e qui c'è Edwige anche qui c'è Dolores Sandwich che fugge e come particolare ci sono la macchina di Ron che scappa dai ragni che li salva dai ragni e che vola guardate che bella proprio si vede che vola e di Hagrid ovviamente con le zucche e qui si apre e si vede spero più o meno la battaglia finale bellissimo e Harry che scappa aragog e si vede anche Harry che scappa con l'ipogrifo cioè che vola sull'ipogrifo faccio vedere meglio la macchina che vola troppo bella la casa di Hagrid e anche spero si vede il fratello di Hagrid bellissimo e qui abbiamo la foresta proibita e la battaglia finale e questa è l'ultima pagina voglio risparmiare insieme velocemente con voi tutto perché secondo me è molto bello e prende tutti i look di Hogwarts appunto Hogwarts in generale con anche ad esempio l'ingresso la parte di Hogwarts con le serre e il coltivo interno il campo di Quidditch aiuto scusate Hogsmeade e la foresta proibita bellissimo volendo se si scancia questa parte diventa si possono aprire tutti i luoghi insieme spero che questo piccolo tour di questo libro pop vi sia piaciuto e vi ringrazio se siete arrivati fin qui se siete arrivati fin qui commentate con la parola campo d'erba oppure con le emoji dell'erba o di qualcosa di verde una pianta di verde e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 se aggiunta l'ora a passare le luci e augurarvi 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 augurare a te una buona buona notte buona buona notte sogni d'oro buona notte 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 Buonanotte nei piccoli pasticcini al mango, un bazzone che li spera